L'Onigo proclama il lutto cittadino per questo sabato 13 agosto, giorno nel quale si svolgeranno i funerali di Wilfred Nghettia, conosciuto come Willy, il giovane 17enne della costa d'Avorio scomparso nelle acque del lago Lavarone in Trentino lo scorso martedì pomeriggio. La cerimonia funebre avrà luogo alle 10.30 presso il Duomo di L'Onigo. La drammatica notizia della scomparsa del ragazzo ha profondamente colpito l'intera cittadinanza che ha manifestato unanime il desiderio di partecipazione al dolore che ha colpito i familiari dello scomparso e gli amici.